Inter inizia il conto alla rovescia per lo scudetto, vediamo subito quale sarà il calendario dell'Inter. Abbiamo visto prima quello della Juventus, sicuramente è un calendario non troppo differente. Parto da Paolo Udinese lunedì nel posticipo, poi abbiamo il Cagliari, come dicevo prima, sta lottando per la salvezza. Il derby di Milano lunedì di nuovo 22 e poi Inter-Torino e Sassuolo-Inter. Una cosa è certa, vincerà lo scudetto in aprile sicuramente, se non con il Cagliari lo vincerà con il Milan, è una peggiore delle ipotesi col Torino il 28 aprile. Questo certamente. Lo vincerà certamente a Milano, quindi lo vincerà a San Siro sia giocando in casa che fuori e avrà soprattutto il conforto del pubblico per la vittoria. Un campionato diversissimo, che deve giocare con la Lazio, anche, che è molto più tosco anche come partite e che soprattutto è in una fase di crisi enorme. Mentre l'Inter sta ormai con l'abbrivio, può anche sparire, come ha detto forse il mister, un mese dal campionato e tornare a vincertelo con calma. Non ha problemi proprio l'Inter. Un campionato relativamente facile, ha tre partite in casa, non proibitive. L'ultima con la Lazio, peraltro, che è soltanto una partita simbolica. Secondo me è una squadra che può chiuderlo entro anche le prossime due giornate il campionato. Se il Milan dovesse fare un passo falso nelle prossime due partite con Leccio-Sassuolo, dovesse, sto dicendo, sarebbe molto facile vincere il campionato. Ma tu ti schiedi con la tua squadra che non farà vincere il campionato all'Inter? No, non mi interessa. Penso che io darei partita vinta al Milan. Non mi interessa proprio. Perché? Perché questa frecciatina ironica? Nel caso si inventa tutto. Insomma, adesso diventa importante che il Milan deve fermare l'Inter. Scusa, se lo vince prima l'Inter, gioca già da campione d'Italia in pecto. No, questo no, perché non bisogna mai sottovalutare niente. Però cosa vuoi che si preoccupi l'Inter, avendo vinto gli ultimi cinque derby? No, mi preoccupo delle dichiarazioni vostre che non permetteremo all'Inter. Ma non è vero? Soltanto una frangia di tifosi? No, non parlo di tifosi, di addetti ai lavori. Io ho troppo rispetto dei tifosi. Però qualcuno dice che non permetteremo di essere arrivati e di dare quattro pene. Ci vogliono degli stimoli per la squadra di Pioli. Per la semplice ragione che Pioli sente molto il derby e lo perde puntualmente. Anche perché appunto, Max Brambati, effettivamente gli ultimi derby il Milan non li ha giocati nel migliore dei modi, considerando che l'Inter ha sempre fatto un risultato molto netto. Certo è che vincere lo scudetto in campo con il Milan nel derby sarebbe un volo raggiunto forse per questo trionfo della seconda stella. Ma lo scudetto è lo scudetto. Tu dici che non ha un gusto. Lo vinci prima, lo vinci dopo. Non riesco a capire tutta questa... E sono d'accordo col Becca. Non riesco a capire come alcuni addetti ai lavori, l'ho letto anch'io, dicano che non permetteremo. Tu non dovevi permettere di far vincere lo scudetto all'Inter in modo così facile. Questo non dovevi permettere, no? Di vincerlo o non vincerlo in un derby. Quella è l'ana caprina. La cosa vera è che dovevi lottare, io non ti dico fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, ma lottare con l'Inter per cercare di contenderti questa seconda stella. Invece non c'è stata questa lotta. Oggi dire che non lo vinceranno nel derby mi sembra veramente poca roba, anzi niente, nulla. Ma dicevo questo appunto, che è inutile parlare di questo, l'ha vinto... No, no, ma non te lo sto dicendo a te, Paolo. Sì, lo so, lo so, lo so. E' inutile proprio. Sto dicendo in generale, io ho letto, credo, io faccio anche i nomi e i cognomi, credo di aver sentito, o di aver letto, non ho sentito o no, di aver letto Calabria dire questa cosa. Ed è molto grave. Che peraltro è il capitano. Certo, è molto grave. Mi sembra che io ti dico la verità, avrei fatto un'altra scelta. Io avrei detto mea culpa a noi che non siamo mai riusciti a entrare a lottare per vincere lo Scudetto, per cercare di non farlo vincere a loro e invece non siamo mai entrati in lotta. Questa è una colpa, non di farlo vincere o meno in un derby di aprile. essere usciti in novembre dal campionato dopo che si era in testa a ottobre. Questa è la colpa. Sì, Gigi, forse per citare un proverbio latino, ala i acta est, il dato è tratto. Cioè ormai tu l'hai perso lo Scudetto, che poi tu l'abbia perso nel derby o non nel derby. Forse nel derby da milanista ti brucia, per così dire, di più, però comunque, come diceva Maxi, i punti dovevi farli prima. Sì, però dobbiamo dare merito anche all'Inter. Assolutamente. Ha sbagliato poco o niente, per cui direi che è come l'anno precedente con il Napoli. Cioè parte una squadra e non la becchi più. L'Inter credo che abbia fatto delle partite eccezionali, ha migliorato il rendimento. È sempre stata una squadra supportata dalla società e dai tifosi. Per cui non potevi intravedere una crepa dove al limite gli avversari potevano recuperare. È partita, pronti via. Certo, fino a un certo punto la Juventus è stata lì, però la Juve non ha mai dato l'impressione di essere una squadra che poteva competere con l'Inter. Perché l'Inter era troppo più forte a livello di organizzazione, di società, di tutto. Per cui lode all'Inter, è inutile stargli e cercare qualcos'altro. Il parlare è bello perché puoi dire di tutto e contro il tutto. Però l'Inter, lode all'Inter, dai, questa è la cosa giusta. Michele, concludo con te il giro di tavolo, un calendario che, sì, può essere difficile, può essere più abbordabile. Alla fine l'Inter ha questo distacco di 14 punti sulla seconda, di 20 sulla terza e quindi può arrivare una settimana prima, una settimana dopo, ma a merito all'Inter. Sono assolutamente d'accordo con il mister, sottoscrivo tutto quello che ha detto, bisogna fare i complimenti, sono più portato per fare i complimenti all'Inter che non dire che il Milan e la Juventus non gli abbiano dato fastidio. Anche se secondo me c'è da dire che tutti questi punti di vantaggio lo sono perché le altre non ci sono state. La Juventus c'è stata fino alla partita prima dello scontro diretto di Milano, però vincendo ma non convincendo come gioco. Sì, fino all'Empoli forse c'è stata la Juventus con quel pareggio. Sì, vinceva 1-0 però con un gol così al 94esimo, però non ha mai convinto. L'Inter invece ha giocato molto bene, ha vinto meditatamente questo scudetto, gli vanno fatti i complimenti perché sono stati bravi tutti. È stato bravo l'allenatore, è stata brava la dirigenza, i giocatori che hanno ammazzato il campionato. Becca, cosa stai cercando? Un dato da snorciolarci? Una delle mie storie. Perché sei arrivata con Baldacchino lì. Prima parlavamo tanto di addetti di lavoro, allenatori, società. In tanti anni che frequento l'ambiente interista, l'ultimo giocatore che arriva nell'Inter, sempre che giochi nell'Inter, è da 10 anni. E questo mi ha colpito molto, la sintonia tra allenatori e giocatori che io ho vissuto anche periodi delle montagne russe dove... E questa è una roba che negli ultimi anni mi ha colpito molto veramente. Cioè chi arriva, anche l'ultimo che arriva, sembra che giochi nell'Inter da 10 anni. E quindi società, addetti ai lavori lì, hanno fatto un lavoro straordinario. Ecco Max, Becca diceva sintonia, no? Un po' la parola d'ordine. Può essere questo uno degli ingredienti della ricetta segreta di Inzaghi? Ma sicuramente, io credo comunque... Perché parlo... Scusami se interrompo, la Salernitana ha pareggiato al novantesimo. Eh sì, arriva al novantunesimo, la rete del 2 a 2, Salernitana-Sassuolo. Scusa Max, vai. No, no, prego, prego. No, io dico che da quando è arrivato Marotta all'Inter e c'era ancora Luciano Spalletti, secondo me Marotta ha fatto con ausilio, ausilio ha migliorato tantissimo, ha fatto un lavoro straordinario mettendo sempre in mano agli allenatori che sono venuti delle squadre importanti, delle squadre competitive, un insieme di giocatori e fatti anche camminando sulle uova perché con questa proprietà sappiamo benissimo che sei sempre stato in equilibrio economico per cui dovevi comprare se vendevi, eccetera, eccetera. Quindi sono state fatte squadre con l'equilibrio dei parametri zero, con l'equilibrio di vendere prima di acquistare, eccetera, eccetera. E quindi io credo che, logicamente il tecnico, i giocatori, però io credo che il lavoro veramente di grandissimo livello è stato fatto da Marotta e ausilio che sono veramente stati spettacolari non solo quest'anno ma in tutti questi anni. Da quando è arrivato Beppe Marotta all'Inter dove c'era Spalletti e che ha avuto anche il coraggio, nonostante un allenatore sotto contratto che era Luciano Spalletti, ha preferito andare per esempio su Conte pensando che, giustamente poi, perché gli ha dato ragione ai risultati, pensando che arrivando Conte sarebbero arrivate subito le vittorie e così è stato. E tra l'altro, sempre per dovere di cronaca, c'è stato un check sul gol di Maggiore, non avevamo detto il marcatore, il terzo gol del giocatore in questo campionato, tutto confermato, 2-2, 93 minuti trascorsi tra Sassuolo. Ma c'era un fallo incredibile. Maggiore ha fatto due gol in meno di Leao. Eh, vedi, per assurdo. Il problema è che la Salernitana è l'ultima in classifica. Scherzo, aveva fatto una battuta per Paolo Vinci. Stavo sorridendo anch'io. Potevi dire anche che ha fatto 2-2 con noi, pareggiando l'ultimo minuto noi. È vero, è vero, è vero. A proposito di gol, Gigi Mainfredino ha un dato perché collega l'Inter alla Juventus. L'Inter in questo momento è la seconda squadra proprio dopo la Juventus stagione 2013-2014 ad aver segnato in ognuna delle giornate di campionato fino alla trentesima. Quindi staremo a vedere cosa succederà per capire se possa andare a scavallare questo primato bianco-nero. Un dato curioso. L'abbiamo detto, è una squadra potenzialmente molto più forte degli altri per cui... E poi adesso ha la sicurezza della grande squadra. Ah. Quando va in campo, lei va in campo solo ed esclusivamente per vincere. Io ho visto le ultime 5 partite, se dovessero ipoteticamente ammettere un premio per farle vincere tutte e 5, le vince tutte e 5. Perché ormai sono sicuri di se stessi. Io ho visto per esempio Di Marco, che anni fa era il terzo giocatore di fascia... Che ha segnato più di Lea, o no scusami, però è vero tra l'altro. Adesso lo vedi. Ma ha la sicurezza del grande giocatore. Lui quando va avanti e sta là, ma anche la squadra crede in lui. Per cui gli danno la palla come se fosse un giocatore di alto livello e lui ripaga sempre. In più, credo che abbiano inventato una cosa che bisogna dirla, ma lì è stato bravo. Io sono sempre stato un po' restio verso gli allenatori attaccanti o portieri. Secondo me vivono un mondo diverso. Per me l'allenatore deve provenire dal centro campo, perché già lì sono allenatori. Però ha dimostrato di essere bravo. Si è completato. Perché hanno inventato quell'appoggio sull'esterno opposto. Avranno fatto non so quanti gol così, ma tutti dicono che ha avuto la fortuna che era là. No, è studiato. Per cui bravissimo anche a Inzaghi. Arriviamo, arriviamo Becca, arriviamo. L'oggetto di uno scambio polemico di 20 giorni fa, che avete visto, fra me e Pioli. Io gli ho detto che tutti i centrocampisti più importanti sono gli allenatori famosi e fondamentali in Europa. Anche quelli che non ci sono, come Antonio Conte o altri. Lui ha precisato che lui ha iniziato nel Parma giovanile come centrocampista. Eccolo, c'era l'aneddoto. Aveva detto lui questo, però era un difensore a tutti gli effetti. Becca, stai dicendo su Di Marco. Però posso dire una cosa. Scusa Massimo, ti rubo due secondi. Ah, prego, prego. Scusa. Vai, vai, vai. No, prendo lo spunto di Di Marco. Io la prima volta che ho visto Di Marco, nel 2017, per arrivare all'Inter, ha fatto un percorso incredibile. Quattro squadre, Verona, Parma. Ma poi c'era il problema di Perisic, perché privarsi nessuno, e lo so, certi, Perisic è andato via, perché c'era Di Marco. Però Di Marco all'inizio giocava come terzo di sinistra e lui talmente era cresciuto come fiducia, come carisma, che ha detto io voglio giocare più avanti perché sono determinante. Poi è un piede fantastico. No, sono stati due o tre passaggi incredibili di questo ragazzo. Quindi quando è diventato uno dei più forti esterni in Europa, ero contento perché l'ho beccato all'inizio e dicevo, ma gli attenti di lavoro che fanno, non ti dico quegli anni lì, chi c'era all'Inter, con tutto il rispetto. E ormai ce lo devi dire. 35 passa milioni di anni. Max, cosa volevi aggiungere? No, mi piace però ogni tanto intervenire e fare però un po' di memoria, perché se no qua sono solo complimenti. C'è da dire una cosa, che qua un mese fa si diceva che l'Inter aveva il centrocampo più forte d'Europa e che sarebbe arrivato in fondo il Champions League. La Champions League, parliamoci chiaro, è stata una grande delusione perché io onestamente pensavo che avrebbero trovato delle difficoltà con l'Atletico, ma via via si avvicinava questa partita, soprattutto il ritorno, si vedeva che l'Atletico aveva comunque delle problematiche, non solo di formazione, perché c'era Griezmann che aveva saltato tutte le partite precedenti a questo incontro, perché veniva da delle prestazioni di campionato deludenti, eliminazione della Coppa del Re, eccetera, eccetera. Ma qui si diceva e si dava, tutti quanti davano per scontato, io nello stesso modo anch'io dicevo la stessa cosa, che l'Inter avrebbe passato il turno, che aveva vinto già l'andata 1-0, insomma se vogliamo trovare un neo a quest'annata dell'Inter, l'eliminazione della Coppa Italia è passata in sordina, perché io comunque sottolino sempre che la Coppa Italia è un po' il trofeo, quello di chi non ha raggiunto gli obiettivi prefissi, però la Champions League secondo me per la squadra che ha dimostrato di essere l'Inter in campionato non è stata una grande Champions League, nemmeno nella qualificazione, perché qualificazione, io prima ho criticato il Milan, però bisogna anche dire, il Milan aveva Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain che sono entrambi i quarti, aveva il Newcastle che insomma rappresentava comunque sempre una squadra inglese, l'Inter sostanzialmente è arrivata a seconda in un girone molto più abbordabile rispetto al Milan, quindi non vincendo il girone sei andata comunque poi a affrontare una squadra sì complicata, ma non sei andata a affrontare il City, il Real, squadra che avresti potuto beccare nel sorteggio, perché erano arrivate prima nei loro gironi, invece sei arrivata a affrontare una squadra probabilmente abbordabile, complicata ma allo stesso tempo abbordabile e sei uscita contro ogni previsione, questo credo che rappresenti un po' una macchia di questa stagione dell'Inter. Miser concludo con te, tra l'altro è terminato a Salernitana Sassuolo in pareggio alla fine, in parità 2 a 2, un punto che poi di base non serve nessuna delle due squadre in questo momento sarebbero retrocesse. L'Inter dell'anno scorso secondo te era più forte dell'Inter che abbiamo visto adesso? Te lo chiedo perché l'anno scorso, come diceva Max, in Champions era andata più avanti. Allora ci sono determinate partite che vanno al di là della volontà, io credo che se guardiamo le due partite con l'Atletico, se c'era una squadra che doveva vincere non era l'Atletico, in casa... All'andata. Sì, esatto, se vinceva 3 a 0 non c'era nulla da dire, là per esempio Inzaghi ha sbagliato molto, perché quando ha tolto Michitaliane di Marco, ha tolto completamente la sicurezza a sinistra, pensando di migliorare in più la squadra, andando in vantaggio si è sentita, abbiamo passato il turno, e in quelle partite lì, soprattutto in campi avversi come quello dell'Atletico, che ha un pubblico particolare, non devi mai mollare un attimo. Ma succede purtroppo, ma questo avrà fatto migliorare certamente tutti i giocatori dell'Inter, se dovesse ripresentarsi l'anno prossimo una partita del genere sicuramente la vincono. Non lo sbagli più, vedo Paolo Vinci che vuole concludere e poi ci fermiamo per la pubblicità. Secondo me l'Inter ha fatto un campionato agrodolce, c'è un'annata agrodolce, perché è eccezionale quello che ha combinato in campionato, dove ha pareggiato 4 partite e ne ha perse una, soltanto, uno score fortissimo. Però l'eliminazione delle due competizioni, quale la Coppa Italia, anche se minore, e soprattutto quella del Vanda Mediterraneo con l'Atletico Madrid, pesano moltissimo sui destini di un'annata che poteva essere trionfale. Ragazzi ci fermiamo. Posso dire solo una cosa? Al volo, Max, al volo. No, io non voglio fare il difensore di nessuno. Ma? Però nell'ultima finale che ha fatto la Juventus in Champions League, finale, che ha perso contro il Real Madrid 4 a 1, credo. 4 a 1, sì. Io ricordo, perché io ho tanta memoria, anche delle cazzate che dico, perché io ne ho dette tante di cazzate qui, ogni tanto le tiro fuori ancora. Però qualcuno disse, e più di un qualcuno, e anche sulla carta stampata, Allegri uguale, aveva vinto la Coppa Italia, aveva vinto il campionato, qualcuno disse, ha perso una finale, stagione fallimentare. Io qua riprendo il fallimento di cui parlava Padovano prima, che è una parola brutta, secondo me, da accustare all'impresa sportiva. io ricordo questi due pesi e due misure, per cui Allegri è un fallimento, che vince il campionato, la Coppa Italia sfiora, tra virgolette, il triplete, perché arriva in finale e, onestamente, gioca contro dei mostri sacri come il Real Madrid, finisce la finale 4 a 1, un fallimento. Insomma, due pesi e due misure. Ma chi ha detto una cosa del genere si è dimostrato non intelligente. Non è che adesso dobbiamo essere penalizzati noi, che la discutiamo diversamente. È stato quello che ha dato del fallito a un'annata dopo aver vinto campionato e Coppa. Assolutamente sì, ragazzi, dobbiamo fermarci. Parliamo di Zhang, che probabilmente ha ritrovato la quadra della sua intere del mercato, quindi nero-azzurra. Parlando di Zhang, perché lo leggete, Zhang si riprende l'Inter, ma Rotta pensa già al mercato. Cosa è successo? Io vorrei tra poco fare il punto della situazione proprio per quel che riguarda la parte economica dell'Inter. E vorrei proprio ripartire da Max. Zhang ha ritrovato il modo di rifinanziare la pratica Inter. Ci racconti tutto, tu che comunque di finanza ci hai sempre illustrato bene. No, 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 no. Allora, aspetta, io mi parlo delle mie finanze, non delle finanze di Zhang. Cioè, se mi chiedi sull'immobiliare di Miami, mi chiedi su Ferrari Azioni, Stellantis, Intesa San Paolo, sono molto ben informato. Se mi chiedi di Zhang e delle sue operazioni finanziarie, io so che c'era sicuramente un prestito da rinnovare, che era quello da cui pendeva Occhitrie, che da lì dipendono le sorti dell'Inter, che potrebbe diventare di altri proprietari, io sul fatto che lui possa aver trovato un finanziatore o possa aver trovato in Occhitrie un rinnovo di prestito, questa è una comunicazione che dovrà dare lui nei tempi e nei luoghi che vengono indicati nell'accordo. Dipende molto da questo rinnovo di prestito. Poi tutte le altre questioni o situazioni sue personali non riguardano l'Inter. È certo che in questi giorni abbiamo visto come la Juventus ha fatto l'aumento di capitale, che oggi diventato solvibile di 200 milioni fa comunque capire che la Juventus fa parte di una galassia che si chiama Exor, di cui fanno parte CNH, Ferrari, la stessa Juventus, Iveco, Stellantis, tutta una serie di società importantissime nel mondo, di cui però l'unica società che è sempre rossa non è la Ferrari, ma è proprio la Juventus. Anzi, Ferrari, vorrei ricordare i fatturati incredibili che ha avuto in questo periodo, dove addirittura l'azione fu collocata nel 2016 a 43 dollari, oggi ha un valore più o meno di 390 dollari. L'azione nel 2016 è stata collocata. Ne hai preso qualcuna tu? Immaginate voi. Ne hai preso qualcuna? Sempre. Sempre. Ferrari, sempre il portafoglio. Ferrari, bisogna tenere il portafoglio, ragazzi. Anche se il dividendo è praticamente ininfluente, mentre i dividendi di Stellantis, se intesa, sono buoni, il dividendo Ferrari non è buono, ma ti dà grandi soddisfazioni sullo spread quando acquisti e poi rivendi. È bellissimo avere Ferrari in portafoglio. Va bene, grazie per questo consiglio finanziario. Comunque sì, sembrerebbe che Zanga abbia trovato l'accordo con OK3, andando a rifinanziare tutta la situazione con un tasso di interesse più alto. Chiaramente poi vi daremo le informazioni man mano in via di sviluppo, quando il tutto verrà ufficializzato. Ma per questo dico, scusami, per questo dico che Marotta e Ausilio sono straordinari dirigenti. Io so di Ausilio che ha incontrato a Riad, quando c'era la finale di Supercoppa Italiana, ha incontrato un mio amico procuratore e gli ha detto, noi è sei mesi che non vediamo Zanga. Quindi fai conto che la finale, c'è stata a gennaio, era sei mesi che non vedevano Zanga. E stiamo facendo tutto in autonomia. E questo vuol dire che hai una dirigenza incredibilmente brava. Certo, impeccabile. In queste due persone. Becca. No, no, volevo rafforzare quello che diceva Massimo, perché il problema non c'è, probabilmente stanno gestendo le cose in maniera importante e anche adesso si rinnoverà chi ci sarà a mettere a posto i conti, che si va avanti in attesa di trovare situazioni più positive. Quindi quelli che hanno il mal di pancia, che l'Inter, stiano tranquilli perché i dirigenti che dicevano... Anzi, vi avevo annunciato una notizia che adesso vi... Dimmi Paolo. Il problema è questo Becca, che i dirigenti sono meravigliosi, stanno facendo benissimo, ma la società ha un debito di 931 milioni. Qualcuno vedrà che li mette a posto il tasso di interesse magari alto, ma stai lì con la borsa d'acqua calda, stai tranquillo. No, no, io sto solo analizzando, sto facendo un opinionista, sto dicendo semplicemente che il debito è quello ed è reale. Qualcuno lo metterà a posto, stai tranquillo. Il rinnovo di Octree non è importante, è fondamentale. Ragazzi, mancano quattro minuti al termine della nostra trasmissione, vi voglio assolutamente illustrare questa situazione di mercato, perché Marotta si è mosso in maniera egregia, tant'è che adesso vi propongo la formazione dell'Inter con già i nomi... Dall'anno prossimo. Esatto! Dove vai, Becca? Non si vede. Va bene, allora studiati bene questo 352. Io inizio con farmelo commentare da Gigi Mainfredi. Come lo vedi? E tra l'altro c'è qualche nome che particolarmente ti stupisce e che secondo te potrebbe funzionare molto bene nell'Inter il prossimo anno? Ebbene, come abbiamo detto prima, i dirigenti che ha l'Inter sono tutti oculati, per cui se fanno un acquisto lo fanno in maniera ragionata. Gusmusson lì mi sa che sarà difficile da prenderli, lì l'ha messo. Dopo i centrali, questo ermoso al posto di Acerbi, che spero non lo buttino a mare, perché dopo la situazione lì con Juan Jesus, veramente sono state fatte degli attacchi incredibili. Certo, è stata una scivolata che ha fatto, però c'è bisogno di scriverla, ha scivolata, basta. E come l'ha gestita anche, soprattutto, no? Esatto, dopo tutti gli altri, vabbè, Taremi, si sa da una vita che c'è Zelinsky pure. Eh, Zelinsky, prima tu me l'avevi citato per la Juventus, no? No, no. Per cosa me l'avevi citato? Chi è che me l'ha citato prima? No, io ho detto che è un giocatore di sicuro affidamento, no? Ok. È una squadra fatta con oculatezza e giusta. Cioè, come è giusto che abbia fatto un genietto come Marotta e Ausilio? Maxi, il nome che più ti convince di quelli letti in giallo? Ma di quelli nuovi? Sì. Ma a me fa molta curiosità questo Gudmundson. Che tra l'altro, guarda, ti dico... Ma Carboni, ricordatevi che Carboni... Sì. E l'Inter ha rifiutato 20 milioni di euro da una squadra di Premier League portati da questo mio amico procuratore all'Inter. Ok. E l'Inter ha rifiutato. Carboni è un giocatore che farà parlare di sé molto. Esatto. Attenzione. Michele, ti do un dato? Scusami Paolo, vai. Valenti Carboni è molto forte. L'ho visto al Monza un paio di volte. È un giocatore veramente eccezionale. Dicevo, Michele, ti do un dato su Gudmundson. Visto che ne ha parlato sia Gigi sia Max, che è il primo giocatore del Genoa, straniero, a superare 10 gol in campionato, tant'è che ha fatto l'undicesimo gol. Giocatore importante, giocatore molto forte, che è seguito anche da altre società, non soltanto dall'Inter, credo che andrà via dal Genoa. Ed è un giocatore di sicuro affidamento. È un giocatore che punta l'uomo, che lo salta, che fa gol. Quindi è un attaccante moderno, che credo che anche la Juventus li stia dietro in maniera importante. Becca, questa Inter che ti proponiamo con questa grafica, come la vedi? Ti convince? Ti piacerebbe vedere la schierata? Chiaramente anche con i titolari, cioè ci mancherebbe. Mi convince al modo di come stanno procedendo, perché veramente... Sul mercato, già dici. Sì, non sbagliano un colpo, si muovono prima in anticipo, anche i parametri zero, ha fatto delle operazioni veramente... E quello viene dato dalla tranquillità e dal gruppo che sta gestendo tutta la situazione.